Ciao a tutti, questo è l'allenamento che vi propongo oggi. Faremo un circuito di sette esercizi. Il primo esercizio sono gli affondi, il secondo esercizio il sit-up, terzo esercizio, il push-up, quarto esercizio, gli stacchi a una gamba, mani dietro alla nuca, interterno. L'altro esercizio è lo squat. All'esercizio successivo abbiamo bisogno di una sedia. Ci mettiamo in posizione di fronte, e andiamo tutte le volte a toccare la sedia. L'ultimo esercizio possiamo farlo da terra o con due libri da utilizzare come rialzo. Passiamo da questa posizione, sollevo e spingo il più indietro possibile. Questo circuito lo dovrete fare per 4 giri facendo 40 secondi a stazione con 10 secondi di recupero da una stazione all'altra. Buon allenamento a tutti! Grazie a tutti!